Il Monassero di Vibonati si appresta a diventare una struttura sociosanitaria. Questo è quanto ha previsto la nuova giunta comunale per il futuro dello storico monumento all'ingresso del paese affacciato sulla frazione Villammare. La notizia è stata riferita dal sindaco Franco Brusco intervenendo alla nostra rassegna stampa. Sono state già avviate le procedure per mandare in appalto i lavori di adeguamento dell'immobile perché, ha precisato il sindaco, l'edificio negli anni è stato reso inagibile. Subito dopo i lavori di ristrutturazione, l'amministrazione comunale si attiverà per individuare un'associazione o una cooperativa che possa avviare all'interno del convento un'attività di tipo socioassistenziale. In questo modo, ha detto Brusco, si andrà a creare una nuova risorsa economica e quindi nuovi posti di lavoro. Nel frattempo è stato raggiunto un accordo con le suore che da anni abitano il monastero e che da tempo utilizzavano l'edificio come struttura ricettiva usando gli incassi per fini benefici. Un'attività contestata dall'attuale maggioranza perché in totale contrasto con il regolamento sottoscritto anni fa con il comune che prevedeva che il monastero venisse utilizzato dalla congregazione per scopi religiosi. Dopo un'ampia discussione tra la madre generale e il sindaco, è stato deciso di assegnare alle suore solo 300 metri quadri dei 3.000 del monastero, anche se il comune voleva assegnargli a Nemille. Probabilmente le suore abiteranno il convento per un periodo breve perché sembrano intenzionati, ha detto Brusco, ad andare via da Vibonati. Il primo cittadino poi ha difeso il contestato autovelox mobile che l'estate scorsa ha mandato su tutte le fure gli automobilisti. In molti sostengono che è illegittimo perché non autorizzato dalla prefettura. La pensa diversamente il primo cittadino. Il decreto prefettizio è previsto per determinate categorie di strade con riferimento all'autovelox a posto fisso. Non parla e non dice di quello mobile. Non c'è una chiara indicazione, poi l'ho approfondito dopo tutte queste polemiche e le ho rassegnate le mie considerazioni al comandante dei vigili perché potesse valutare anche in questa direzione. L'intervista nella nostra rassegna stampa del sindaco di Vibonati potrete seguirla integralmente dopo il telegiornale.